super cremoso e saporito il risotto con porri e stracchino è facilissimo da preparare e soprattutto è buono buono pulisci il porro ed elimina le tracce di terra che può presentare affettalo poi sottilmente in una casseruola metti un giro d'olio e aggiungi il porro farlo appassire con sale e pepe quando sarà pronto mettilo da parte in un'altra casseruola bersa il riso e farlo tostare senza aggiungere grassi sfuma con del brodo vegetale molto caldo porta a cottura il riso aggiungendo poco per volta il brodo vegetale sempre molto caldo e mescolando spesso aggiusta di sale e pepe se non l'hai già fatto con il brodo e porta il riso quasi a cottura verso fine cottura aggiungi i porri e fai insaporire per un paio di minuti quando il riso sarà quasi cotto toglielo dal fuoco aggiungi del burro ben freddo e dello stracchino mescola per bene e lascia riposare per un paio di minuti impietta il riso ben caldo e dai un'ultima spolverata di pepe nero e voilà